Allora siamo con Godone della Rossiglionese a commentare questo 1-1 sul difficile campo della Corniglianese, una rossiglionese che si è portata un vantaggio nel primo tempo, poi ha fatto ancora una buona partita, non è riuscita a chiuderla e sul finale la Corniglianese che ce l'ha messa tutta è riuscita a pareggiare, un commento? Dispiace un po' aver preso il gol all'ultimo, però comunque è stata una partita combattuta, al primo tempo forse un po' meglio noi, al secondo tempo un po' meglio loro, però ai punti alla fine direi che è un pareggio giusto. La Corniglianese comunque è una grandissima squadra e la squadra da battere secondo me. Certo, però dall'altra parte lo siete sembrati anche voi, la squadra da battere, all'ultimo, al 92esimo, dopo l'1-1 potevate segnare, su quel colpo di testa? Il colpo di testa, poi c'è stato un po' di parapiglia in area, fischiato fallo, ma comunque non ne avevamo fatto gol, però secondo me, ripeto, è stata una partita equilibrata, ce la siamo giocata, un 1-1 ci può stare. Va bene Raul, grazie. Grazie a te.